Ciao a tutti, ebbene sì, sono tornata con il solito appuntamento del lunedì con un'altra decorazione agenda. Questa è la trentaseisima settimana che va da lunedì 31 agosto, oggi finisce ufficialmente il mese di agosto, a domenica 7 settembre, o domenica no, domenica 6 settembre, scusate, e questa settimana qui ho deciso di decorarla tutta a tema un po' Disney. Qui ho utilizzato come paper tape questo qui rosso con i qua bianchi, con topolini mini, poi per scrivere i giorni della settimana ho messo il paper tape con i giorni in inglese, qua c'è il divisorio fatto da me con lo zaino e tutto il materiale scolastico, poi dietro c'è la solita impostazione, qui c'è il paper tape azzurro con i qua con paperino, poi dopo ho attaccato qualche stellina, qualche cerchietto e così via. Qua c'è questo qua sul verde con i quadratini e questo qua sull'azzurro con queste righine che avevo presa la Lidl, se non ricordo male. Qua sul verde ho messo Pluto, che è lo stradoro, e qua ho messo Pippo e tutti loro insieme. E niente, devo dire che questa decorazione comunque mi piace tanto perché è bella colorata, ve la mostro nuovamente. Scusate, ma cerco di stare il più ferma possibile, anche se non è il mio forte. Comunque eccola qua. E niente, questa è la mia decorazione di questa settimana. La scorsa settimana dovevo pubblicare due video per quanto riguarda tutto il mio shopping con i sali di questo mese appunto estivo, quindi siccome non sono riuscita a pubblicarlo la scorsa settimana, spero di riuscirci questa settimana. Quindi vi invito come sempre a lasciarmi un bel pollicione in su se il video vi è piaciuto, ad iscrivervi al canale qua giù in basso dove c'è scritto iscriviti, ad attivare la campanellina così che vi arriva la notifica di quando pubblicherò il mio prossimo video. Come sempre vi lascio il mio account Instagram. Un bacione grande grande, ciao al prossimo video. Ciao! Ciao!